lei tranquillamente dice si nasce sulla base di che cosa lo dice la mia esperienza no 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 la sua esperienza non conta nulla no 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 scusi abbia pazienza conta per lei stessa lei sta facendo ascoltiamo crepè per favore ascoltiamo crepè perché ognuno ha la sua esperienza che non è generalizzante un articolo scientifico in cui si parla di teoria di gender legata al gene io le do molti soldi ma non c'è perché ci sono due malattie sessuali e sul sul nel comportamento sessuale legato al gene che non sono quelle che lei cita quindi questo io non lo so tra dieci anni troveranno qualche cosa e le do ragione però dire questo è molto pericoloso